Buonasera a tutti e grazie per aver accolto l'invito di Associazione San Benedetto, amici delle opere di carità, a questo terzo e ultimo incontro che ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i progetti di solidarietà internazionale realizzati da AFSI. Prima di entrare nel viro dell'incontro, permettetemi per chi ancora non le conosce, una brevissima presentazione di queste due realtà che ho appena nominato. L'Associazione San Benedetto è nata nel 2007 dal desiderio di un gruppo di amici di dare forma stabile di aiuto al lavoro del Banco Alimentare, il Banco Farmaceutico, AFSI e altre opere di carità, organizzando iniziative di solidarietà, di raccolti di beni materiali e di fondi, come facciamo questa sera, cose che poi vengono date a questa organizzazione e che rispondono a diversi bisogni materiali dei meno ambienti nel nostro paese. L'Associazione promuove anche attività culturali, mostre, concerti, visite guidate per incontrare la bellezza nelle diverse forme di arte e offrendo la testimonianza di uomini e di donne esemplari. AFSI, forse più conosciuta certamente, è l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro, che è nata nel 72 e attualmente è impegnata con 255 progetti di cooperazione allo sviluppo. Nell'ultimo anno, attraverso il lavoro di 2.120 cooperanti e 2.255 organizzazioni partner, ha aiutato nei 38 paesi del mondo in cui opera circa 5 milioni di persone in difficoltà, di cui decine di migliaia di bambini attraverso il sostegno a distanza. Per la precisione 21.412 bambini, dicono i dati ufficiali di AFSI. In questa tragica situazione umanitaria che si è venuta a creare con la guerra in Ucraina, la serata di stasera non voglia sembrare una parentesi, o soprattutto una dimenticanza del dramma di milioni di persone che sono coinvolte in questo conflitto. Ma il nostro incontro intende invece riaffermare che di fronte agli immessi bisogni dell'uomo in ogni parte del mondo è sempre più necessario un nostro maggior coinvolgimento. Ce lo ricorda proprio il titolo della campagna di solidarietà di AFSI di quest'anno, lo sviluppo Sei tu il tempo del coraggio, che è proprio un invito a non restare fermi e indifferenti di fronte ai bisogni spesso inimmaginabili di troppe persone nel mondo. Quanto queste persone centrino con noi e quanto ognuno di noi sia legato a doppio filo al destino degli altri, anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, è la lezione più grande credo che abbiamo appreso in questi anni di pandemia e ancora più adesso dove centinaia di migliaia di persone in fuga dei bombardamenti giungono in tutti i paesi d'Europa, anche qui tra noi. Tra pochissimo saremo in collegamento streaming con Roberto Brambilla, di professione Roberto è direttore della formazione post laurea dell'Università Cattolica, ma da sempre un appassionato divulgatore della musica classica. Diplomato in pianoforte da molti anni è anche impegnato nell'educazione alla musica corale e questa sera ci guiderà all'ascolto della morte alla fanciulla, un quartetto d'archi in re minori di Franz Schubert e in questo quartetto l'autore riprende il problema della vita e della morte, che è sempre stato al centro della sua riflessione musicale ed esistenziale. E qui Schubert cerca di addentrarsi nella selva misteriosa del destino ultimo dell'uomo. Ma qui mi fermo e per accompagnarci all'ascolto di quanto Schubert ha saputo comunicarci con la sua arte, lascio subito la parola al maestro Brambilla. Buon ascolto. Grazie, grazie mille Guido, buonasera, buonasera a tutti e grazie a tutti voi che siete in ascolto. Hai ragione, in effetti questa serata non è una parentesi, anzi entra proprio nel vivo di tutto della realtà che noi stiamo sperimentando, che stiamo vivendo. Innanzitutto vorrei dirvi perché la proposta di questo quartetto, la morte e la fanciulla, e direi innanzitutto per un'esperienza personale, perché in un periodo difficile come quello che stiamo passando, personalmente ho scoperto come questa musica, ma soprattutto questo musicista, riescano a dirci qualcosa che va oltre, che va oltre la contingenza dei drammi che viviamo e anche a darci un po' di speranza. Voi dovete sapere che Schubert ha vissuto giovane il dramma della malattia, poi della morte, a soli 31 anni, e le domande che anche noi ci stiamo facendo, prima penso con la pandemia, ora con il dramma della guerra, lui se le fate per primo. E queste domande è riuscito come a trasformarle in una creazione artistica, una creazione artistica straordinaria, come tra poco vedremo. Innanzitutto volevo dirvi che la morte e la fanciulla, cioè la morte e la vita, il vivere e il morire, per Schubert non sono dei semplici temi letterari, non sono concetti romantici, Schubert vive all'inizio del romanticismo, di quel movimento letterario, artistico che è stato il romanticismo, ma per lui questi temi, la morte e la vita, il vivere e il morire, fanno parte della sua esperienza quotidiana, perché lui li ha provati, essendo stato vicino alla morte, attraverso la malattia, ha sentito anche più forte il gusto della vita. E trattare questa esperienza attraverso una forma artistica, la musica appunto, è un modo per lui per scavarla, per andare al fondo, andare al cuore del significato. Schubert non viene meno a questo compito, di affermare attraverso la musica il bisogno di un significato profondo di fronte a questa contraddizione, a questo dramma che è appunto la vita e la morte che tutti noi ci troviamo davanti e anche in queste settimane in una forma così drammatica come quella della guerra. Allora il viaggio che tenteremo questa sera è esattamente a questo livello, Guido tu lo dicevi non è una parentesi, ma è un provare a lasciarci trasportare nell'oltre a cui la musica come ogni forma d'arte rimanda. E questo metodo con cui siamo stati educati, penso appunto all'ascolto della musica classica, non è per un'analisi musicale, ma è un approccio che sia attento a quel surplus di esperienza artistica che è ciò che nell'arte trascende l'aspetto fisico della realtà. Pensate ciò che in una poesia trascende le parole, ciò che in un quadro trascende il colore, in una scultura trascende la materia e in questo caso nella musica è tutto ciò che trascende quel fenomeno acustico del suono. Riccardo Muti in un bellissimo librino che si intitola L'infinito tra le note lo dice bene, parla esattamente di questo infinito, questo mistero mi verrebbe da dire, nascosto tra le note che è tutto da scoprire. Allora se siete pronti possiamo partire, premetto però una cosa importante che in questo viaggio io potrò accompagnarvi solo fino a un certo punto, poi come Virgilio nella commedia vi dovrò lasciare appunto ad anima più degna, in questo caso la musica e a quel punto l'esperienza che ciascuno di noi potrà fare durante l'ascolto sarà un'esperienza totalmente personale. Questo è ciò a cui io non posso guidarvi, posso introdurvi, posso importarvi fino a un certo punto e se posso dare anche un consiglio per gustarci di più la musica provate a trovare una modalità per ascoltare anche tranquilli ad esempio con delle cuffie che aiutano tantissimo e se per caso poi dovesse succedere qualcosa nella registrazione, dovessero avere problemi di rete eccetera, poi vi possiamo mandare anche il link, magari chiedo a Paolo di prepararlo, un link di questo video che vedremo perché stasera non solo ascolteremo della musica ma vedremo della musica, vi mandiamo il link, la stringa nella chat o comunque faremo in modo di inviarlo. Allora se siete pronti io incomincierei da questo geniale, geniale, umanissimo autore che è Schubert. Schubert nacque nel 1997 a Vienna dove morì giovanissimo a soli 31 anni, era contemporaneo anche se di qualche anno più giovane di Beethoven che per lui costituiva un faro, proprio un punto di paragone, tanto che nelle sue ultime volontà Schubert chiese di essere seppellito proprio al suo fianco. Nel 1827 moriva Beethoven, un anno dopo moriva Schubert. Quella di Schubert non fu una vita semplice, fu una vita breve e non semplice, non semplice dal punto di vista del lavoro perché non riuscì mai ad affermarsi veramente, la sua musica fu scoperta, mi verrebbe da dire fu compresa nella sua portata, nel suo valore, soltanto diversi anni dopo la sua morte e non fu una vita semplice neanche dal punto di vista degli affetti perché nonostante alcune amicizie veramente solide, sono famose le cosiddette Schubertiadi, cioè delle riunioni, delle adunanze di amici dove si trovavano a mangiare, bere e a fare musica, a cantare insieme e lui aveva tanti amici, ma dal punto di vista degli affetti pochi amici veri e due grandi amori purtroppo sfortunati. Non fu una vita semplice nemmeno dal punto di vista della salute personale, come vi dicevo e come tra poco vedremo. Per cui gli ultimi anni, in particolare gli ultimi quattro anni della sua vita furono veramente un miracolo di scrittura creativa. In quegli anni la sua attività compositiva divenne quasi frenetica, videro la luce non solo il quartetto di cui parliamo questa sera, La morte e la fanciulla, ma ad esempio anche le sonate per pianoforte, la messa in mi bemolle, i tri opera 99-100 che forse in tanti di noi sono abituati ad ascoltare così come la sonata per arpeggione e poi gli improvvisi per pianoforte, la sua ultima sinfonia detta alla grande. Sembra quasi una contraddizione, pensate che a 25 anni Schubert si era malato in un modo talmente serio che restò per diverso tempo diciamo in condizioni precarie e non fu solo la sua salute fisica a rimanere compromessa, ma fu soprattutto, come si capisce dall'ascolto della musica, la sua serenità spirituale a essere colpita. In queste condizioni uno potrebbe dire rinuncio a tutto, smetto di lavorare, smetto di comporre, faccio vita ritirata, ma per lui non fu così, anzi proprio questa situazione, questo dolore, questa situazione anche di salute precaria non fece altro che rafforzare la sua vena creativa e la sua soprattutto serietà nei confronti della vita, tanto da plasmare e da segnare in un modo indelebile tutta la sua musica e dare al mondo come ha fatto dei grandissimi capolavori. Sapete come nasce questo quartetto? Dovete tenere presente che Schubert visse in una città, Vienna, quindi in un ambito sociale, anche in una compagnia di gente, una compagnia di amici, come dicevo prima, piena di musica, piena di musica e piena di canti. Era così, era così la società di allora, tutti cantavano e il centro ispiratore delle sue composizioni, diciamo la forma artistica che lui vedeva come centro da cui iniziava a comporre, fu il Lid. Lid in tedesco significa canto, canzone, ovvero una composizione vocale accompagnata dal pianoforte di solito su un testo poetico, su una poesia, musicava delle poesie. E il Lid per Schubert è come un laboratorio nel quale sperimentare temi, melodie, tonalità, è come per l'artista, per il pittore un bozzetto, no? Prima di fare un quadro uno traccia su un foglietto a matita, un bozzetto. Così Schubert tracciava le sue noti in una piccola composizione, la canzone, il Lid. E la morte e la fanciulla, da cui prende il nome il nostro quartetto, il quartetto che ascolteremo questa sera, fu innanzitutto uno dei più fortunati leader di un Schubert quasi ventenne, di fatto ventenne. Otto anni dopo aver scritto, dopo aver dato la luce nel pieno questo Lid, nel pieno della sua maturità, diciamo artistica, Schubert prese questa canzone, trascrisse questo Lid per quartetto d'archi e lo sviluppò in quattro movimenti, partendo appunto dalla melodia e dagli spunti tematici del Lid stesso. Questa, se ci pensate, è una fortuna, perché noi possiamo immaginarci, medesimarci nel significato di questo quartetto proprio a partire dalle parole della canzone che lo ha ispirato. E cosa dice questo Lid? Lid racconta dell'incontro di una fanciulla con la morte, la fanciulla rappresenta la giovinezza, la vita, la voglia di vivere, e la morte le si presenta davanti come un'ombra, no? Per portarla via. Allora proviamo a immaginare questa scena attraverso le parole del canto. La ragazza quando vede la morte si ribella e dice, qui cito le parole del canto, va via, passa oltre, sono ancora giovane, non mi toccare. Ma la morte non si scompone e reagisce in un modo calmo, suadente, rassicurante, e le dice, anche qui cito, dammi la tua mano, o bella e dolce figura, io ti sono amica, non vengo per lottare, fatti coraggio, non sono feroce, ti sono amica, puoi dormire dolcemente tra le mie braccia. Come avviene nel Lid, quindi nelle parole che io vi ho appena letto, anche nel nostro quartetto il tema del destino che incombe, cioè della morte che si avvicina, è esattamente lo spunto che muove Schubert. Ed è evidente che Schubert voglia sottrarsi, come farebbe ciascuno di noi, all'abbraccio della morte. E tutta la sua opera, tutto questo quartetto, è l'espressione di una lotta che lui aveva dentro di sé, tra la morte e la vita, tra il desiderio di eterno e l'evidenza di una corruzione presente in ogni cosa e anche in ogni azione. Allora, a questo punto vediamo in un modo semplice come questo che vi ho detto, quello che vi sto dicendo, viene proposto nell'opera, nel quartetto, in modo che da ora possiamo già iniziare a entrare proprio nel brano, diciamo in un racconto del brano, nello svolgersi dell'opera. Dobbiamo pensare, uso questa immagine, innanzitutto lo sviluppo di un'opera musicale come il dipanarsi di un percorso, di un viaggio fatto di tappe, di incontri e la morte e la fanciulla, il quartetto, si articola, ve lo dicevo prima, in quattro tappe, ovvero in quattro movimenti, come era in uso articolare i quartetti o anche le sinfonie dell'epoca. Ogni tratto di questo viaggio ha le sue caratteristiche, le caratteristiche sono i suoi incontri, i personaggi, i personaggi che in musica non sono altro che i temi musicali, le diverse melodie. Allora prendiamo ad esempio la prima tappa, nel primo movimento vengono subito introdotti, sto entrando nella spiegazione, i due personaggi principali, i protagonisti, cioè la morte e la fanciulla. All'inizio si presentano, sentiremo, semplicemente mostrando le loro caratteristiche. la morte, cioè il primo personaggio, ha un duplice volto, un attacco, l'attacco proprio del quartetto, molto aspro, forte, drammatico, caratterizzato da un ritmo deciso, lo ascolteremo proprio nell'incipit del quartetto, e poi un secondo volto della morte, di questo tema, che è, come dicevano prima le parole, apparentemente più pacificante, più tranquilla, ma non meno interrogativa, segnata ascolteremo da diverse pause che danno proprio come un senso di inquietudine, di mistero. Viceversa, l'altro personaggio, la vita, la fanciulla, entra in scena in modo diverso, spensierato, leggiadro, con un ritmo quasi di danza, ma un ritmo danzante. Anche la tonalità, Guido ci ricordava all'inizio il quartetto in re minore, che ha la tonalità di impianto di questo brano musicale, qui quando entra la fanciulla cambia e diventa una tonalità di modo maggiore, quindi molto più aperta, molto più allegra, più ottimista, diciamo. Bisogna dire che nell'animo di Schubert, ecco questa è una cosa cui tengo in modo particolare, convivono questi due aspetti, cioè da un lato la tensione alla vita, all'anelito alla bellezza, e dall'altro il dolore per il limite, come l'impotenza di non poter raggiungere da soli la felicità. Ed è Schubert stesso a spiegarlo in un suo scritto. Lui dice per molti anni, composi delle canzoni, qui sta parlando appunto dei suoi leader, ma se volevo cantare l'amore non sapevo che esprimere il dolore, e se volevo cantare solo il dolore, esso diventava amore, e così l'amore e il dolore si dividevano la mia anima. Ecco, sono proprio questi due aspetti che potremmo definire antitetici ad affrontarsi durante tutto questo primo movimento. Ricordiamoci che siamo sempre nella prima tappa del nostro viaggio, e dopo essersi presentate la morte e la fanciulla, cosa fanno? Iniziano a incontrarsi, iniziano a dialogare, si intrecciano, lottano, il clima si fa come più drammatico, più deciso. E noterete questa cosa, più acuto è il dolore e più acuti sono i suoni degli archi, soprattutto dei violini, e più incalzante il ritmo. E in questo primo movimento, dove sembra prevalere il tema della morte, ma in realtà la vita non vuole soccombere, non ci sta a soccombere, e lotta fino all'ultimo con tutte le sue forze per vincere. Nell'ultima parte del primo movimento, quest'ultima parte appare come una vittoria della vita sulla morte, ma la morte non può essere dimenticata. Così si ripresenta proprio nel finale, quando tutto sembra terminare in un modo positivo, ascoltiamo proprio la musica, ascolterete il finale di questo primo tempo, accade a un certo punto qualcosa di imprevisto, un cambiamento di rotta. Il tema della morte, che è quello principale, ricompare nelle ultime battute, proprio nelle battute finali, e chiude questo primo movimento con due rassegnati accordi di nuovo nella tonalità minore. Allora, adesso iniziamo l'ascolto, ma il video, vi dico una cosa prima di lasciare a Paolo di far partire il video, il video che guarderemo stasera è una bellissima versione interpretata dal quartetto Alban Berg, un famoso quartetto austriaco, e non è solo una bella registrazione, una registrazione piena di vita, di drammaticità, ma è anche la regia molto bella, le inquadrature particolari, che rende vivace e valorizza anche ogni particolare, e quindi aiuta anche noi l'attenzione nell'ascoltare un'opera così particolarmente densa, così piena. Qui la musica, ve lo dicevo all'inizio, non è solo da ascoltare, ma anche da vedere, a cosa prestare attenzione. Osservate, primo, il dialogo tra gli strumenti, come gli archi, il violoncello, il violino, la viola, si rispondono tra di loro, come entrano uno dopo l'altro, ma ascoltate anche la coralità degli strumenti, quando invece suonano insieme, con lo stesso passo, con lo stesso ritmo. E poi notate anche gli sguardi dei musicisti, tra un lato questa grinta, ma anche questa intesa, questo passarsi le frasi tra uno strumento e l'altro, dove il suono diventa, sembra proprio che sia così, il loro stesso canto, il canto delle persone, i musicisti. E poi infine, guardate anche, a me colpisce questo, la vibrazione degli strumenti, guardate cosa si può tirar fuori da una corda di metallo, da un pezzo di legno. la tenerezza e la delicatezza di certi suoni e il grido drammatico di altri. Ecco dunque la prima tappa, questo è il primo movimento, la morte e la fanciulla. Il secondo movimento, poi quando lo ascolterete, il secondo è bellissimo, il secondo è il cuore di questo nostro cammino, è il cuore del quartetto. E qui Schubert, in questo secondo movimento, riprende, se vi ricordate quello che ho detto prima, la canzone che aveva scritto quando aveva vent'anni, il lead, la morte e la fanciulla. Nel senso che il secondo movimento riprende, paro paro, il tema, nel suo tema principale, la melodia della canzone originaria. Io ho anche lo spartito, diciamo la parte del lead e sono già le voci poi del quartetto. Quindi il secondo movimento, questa seconda tappa del nostro cammino, è composto nella forma musicale ogni tempo, ogni movimento ha una sua forma musicale. La forma musicale del secondo tempo è il tema con variazioni, cioè un motivo principale, che è appunto il tema della morte, della fanciulla, seguito da cinque variazioni, ovvero cinque modi diversi di proporre lo stesso motivo. E questo motivo, questo tema principale, è il tema della morte. Schubert ce lo fa capire con alcuni elementi ben precisi in questo inizio. La morte, quali sono questi elementi? La morte la capiamo da questo, la melodia. La melodia è molto semplice, quasi immobile, fatta da poche note, sempre le stesse note, qualcuno varia, note ripetute, note vicine che variano, ma sempre un ritmo essenziale, lento, cadenzato, come l'andamento di una marcia funebre. E poi la scrittura, la scrittura musicale, è quella di un corale, di un inno religioso, molto solenne, ogni strumento suona una melodia tristissima. La fanciulla entra in scena solo alla quarta variazione, quindi tema, prima variazione, seconda, terza e finalmente alla quarta. La quarta è la variazione più delicata, più leggiada, si coglie, si coglie che è il tema della vita. E parlando della morte è evidente che noi ci troviamo di fronte a un fatto che non possiamo eludere e la scelta stessa di Schubert di comporre un tema con variazioni sottolinea esattamente questo aspetto, perché è la stessa melodia che pur variata, ma viene ripetuta, ripresa, come dire gira e rigira, alla morte non si scappa. Ma c'è un ma, c'è un aspetto molto interessante di questo secondo movimento, che è un tratto direi caratteristico di tutta la musica di Schubert e cui Schubert assomiglia molto di più a Mozart che a Beethoven. Pur dentro il dolore, dentro la tristezza, il tema finisce sempre con una nota di positività, cioè lascia intravedere come una speranza. Al termine di ogni frase, cupa, fiorisce una novità che rischiara tutto il clima. E io sono sicuro, adesso vedremo se riusciamo a fare qualcosa, ma sono sicuro che ascoltando coglierete proprio questo aspetto di serenità, di frasi che iniziano cupe e poi diventano, si aprono in una luce molto serena. Quello che colpisce della musica di Schubert è che in lui, ma lo dicevamo prima, citando anche una sua frase, tristezza, dolore, rassegnazione convivono con la letizia, la speranza, il desiderio di felicità. È molto bella la regia di questo inizio, di questo inizio di secondo movimento, perché parte tutto il buio e uno alla volta si accendono le luci su tutti gli strumenti. Ricordate che gli strumenti, ho detto prima, suonano insieme come un canto corale, ma accendendo una luce ora sull'uno, ora sull'altro, riusciamo come a sentire, come a captare, come a isolare la voce del singolo strumento che sta cantando insieme alla coralità di questo quartetto. Ecco, io direi questo sul secondo movimento, terzo e quarto movimento. Dopo aver ascoltato nella prima tappa, quindi nel primo movimento del nostro viaggio, non solo i due temi che si presentano, i due personaggi, ma anche il loro dramma, che poi il dramma della vita di Schubert, ed è anche il dramma della nostra vita, dopo averlo come sorpreso, meditato nel secondo movimento, in tutte le sfaccettature, dicevo, il tema variazioni, nei modi variati con cui questo dramma si propone, arriviamo alle ultime due tappe, che sono quelle che io volevo proporvi anche di guardare insieme, poi di fatto voi le vedrete poi insieme una dopo l'altra. Perché nel terzo movimento Schubert mette a confronto ancora una volta questi due temi, non voglio chiamarli personaggi o temi, ma si tratta oggettivamente di due fatti, di due tratti costitutivi della vita dell'uomo, fatti che evocano il destino, non un destino generico, ma anche il nostro destino. Ecco perché sentiamo, almeno io sento così attuale questa musica anche per me, quindi come voi la potete sentire per voi. Questi due temi che si affrontano, non so se avete presente nella bellissima liturgia di Pasqua del mattino della Messa del Giorno, prima dell'Alleluia c'è la cosiddetta sequenza, il Victime Paschali Laudes, dove a un certo punto l'autore dice, morset vita duello conflixere mirando, conflixere mirando, la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Così morte e vita, in questo terzo movimento di Schubert, sono ben riconoscibili, anche qui si confrontano. Il movimento, il terzo movimento è distinto chiaramente in tre parti. Prima parte, il tema della morte, che viene presentato all'inizio, cioè nella prima parte e nella terza parte, con un piglio drammatico deciso, come all'inizio dell'opera, e la fanciulla, invece la vita, che entra in scena nella parte centrale, questo è un trio, è uno scherzo con trio, entra nella seconda parte, entra in scena la fanciulla con un'aria invece più serena, più tranquilla, più piena di positività. Quindi, riassumendo il terzo movimento, morte, vita, ancora morte, ma uno dice, ecco, ha vinto di nuovo, ma cosa succede? Il terzo movimento sfocia nel bellissimo ultimo quarto movimento, che è un brano velocissimo, è un brano al limite proprio dell'eseguibilità tecnica e dal mio punto di vista rappresenta un capolavoro compositivo assoluto. Questo lo vedrete già nell'attacco, l'attacco ci lascia letteralmente senza fiato. Innanzitutto tutti gli strumenti, quindi quattro strumenti, suonano all'unisono. All'unisono vuol dire che fanno una voce sola, cioè le stesse note, ognuno fa le stesse note. Questo dà come un senso di sicurezza, di fermezza. Il ritmo è il ritmo tipico del galoppo, degli zoccoli di un cavallo lanciato in corsa. Non so se sentite cosa... e la velocità è davvero elevata. C'è come una caratteristica di questo ultimo movimento, che è questa. Poi lo ascolterete. Quando sembra che il punto di arrivo di questa corsa sia vicino, cioè quando sembra che queste frasi, queste corse, questa melodia incalzante arrivi a una conclusione, Schubert ce lo sposta sempre più in là. Come lo fa? Attraverso una serie di accordi, in armonia si dice accordi sospesi, cioè accordi che non risolvono mai, che sono sempre... lasciano l'orecchio sempre allerta, no? Non fanno riposare, ma che spostano quindi la meta sempre più avanti. Ogni volta la corsa riprende fino a un rush finale, del quale il termine è dato come da questi due accordi conclusivi che dimostrano che la meta di questo viaggio, questo viaggio che abbiamo iniziato insieme, questa meta esiste e che esiste anche una risposta al problema della morte, anche se questa rimane, resta drammatica e misteriosa. Io volevo concludere questa presentazione e poi vedremo, vi lasceremo, lasceremo a voi questo ascolto, però questo sono certo che ve lo ricorderete, magari tante delle cose che ho detto magari non rimarranno in testa, non rimarranno in mente, oppure non riusciranno a essere scoperte ascoltando la musica, ma sono sicuro che invece questa vi rimarrà in mente. E volevo finire con il modo con cui Don Giussani ha definito questo ultimo movimento, cioè la cavalcata dell'eterno, questa cavalcata verso l'infinito, no? Noi stiamo tutto il brano e tutta una lotta tra la vita e la morte, sembra che la morte l'abbia vinta. E lui dice così, la morte non è l'ultima parola, così come la corruzione delle forme non è la verità delle cose. Ecco infatti che la vita che sembra finire non muore, ma cammina dentro l'eterno. E infatti la quarta parte che io chiamo, cioè che Giussani chiama la cavalcata dell'eterno, è la descrizione di una vibrazione positiva e vittoriosa, come una cavalcata, come un correre nei grandi campi del cielo, con tutta la compagnia che ora ci sta attorno, perché l'eterno è la verità del presente. Ed è bello immaginarsela a cavallo. Io dovrei augurarvi buon ascolto, ve lo auguro, spero che attraverso il link che vi abbiamo mandato, possiate ascoltare questa bellissima opera. Grazie. Grazie a te Roberto, davvero. Mi colpisce molto questa capacità, come dire, di leggere la musica. Ecco, mi colpisce molto il fatto anche che, come in tutte le cose, ci vuole qualcuno che ti aiuta, insomma, ti introduce, ti spiega, perché così poi le cose si possono, capendole, si possono conoscere e gustare. Io concludo semplicemente ricordando che questa serata, come le precedenti, appunto, come ricordavo all'inizio, le abbiamo promosse come Associazione San Benedetto a sostegno della campagna di solidarietà tende di quest'anno. Sono progetti di solidarietà internazionale, sono progetti che si rivolgono a persone che in tante parti del mondo sono in grave difficoltà, sotto tutti i punti di vista, alimentare, educativo, lavorativo, perché queste cose, appunto, mancano. L'invito è a contribuire al sostegno di questi progetti, trovate in sovraimpressione, ma potete andare poi sul sito di San Benedetto, di Afsi, e trovare le modalità con cui sostenere questi progetti. per quello che riguarda un contributo economico, potete effettuarlo, appunto, sul conto che vedete segnato sul video, intestato da Associazione San Benedetto, piuttosto che, se volete, sottoscrivere un'adesione al sostegno a distanza, andando sul sito di Afsi, all'informativa, al link che vedete. Il sostegno a distanza è una cosa molto semplice, e lo abbiamo detto altre volte, il corrispettivo di un caffè al giorno, ma con un caffè al giorno, alla fine dell'anno, si può dare la possibilità a un ragazzo di frequentare una scuola, anche professionale, e quindi magari di contribuire al cambiamento del suo destino, perché non è costretto, forse non sarà costretto, a venire in Italia, in un'altra parte del mondo, lontano dal suo paese, per trovare la possibilità di un lavoro. Quindi capisco che, capisco, molti in questo momento stanno aiutando l'Ucraina, questi progetti sono altrettanto importanti, e l'invito è proprio sostenerli. Vi ringrazio, ringrazio di nuovo Roberto, davvero, spero che ci saranno altre occasioni per che tu ci accompagni. Vengo in presente la prossima volta. Ecco, facciamo così, ecco, forse lì non ci interromperanno. Quindi grazie a tutti e buona serata.